Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo i migliori motori per FPV a basso costo. Si tratta di questi Racer Star 2205 da 2300KV, se volete acquistarli vi lascio il link in descrizione. Quando parliamo di motori per droni FPV sappiamo che le marche migliori sono EMAX, Luminier, TBS, T-Motor eccetera ma sappiamo anche che i prezzi per un set di 4 motori sono veramente elevati. La Racer Star invece si impone come marca di livello medio ma con prodotti buoni e dei costi molto concorrenziali. Per chi si avvicina al mondo dell'FPV usare subito dei motori troppo costosi è sconsigliato, il rischio di danneggiarli a causa di una caduta dovuta all'inesperienza è alto. Quindi meglio iniziare con dei motori con un costo contenuto ma delle prestazioni più che sufficienti. Facciamo un veloce unboxing. All'interno della confezione troviamo il motore, un dado in alluminio autobloccante e due set di viti. Il primo set è da 10,8 mm mentre il secondo set è da 8,8 mm Il peso del motore è di 28 grammi. Come possiamo notare nei motori sono presenti delle frecce che indicano il senso di rotazione. Questi due motori gireranno in senso orario mentre questi due gireranno in senso anti-orario. Il senso di rotazione viene specificato perché le filettature sono diverse. Questo dado si avvita in senso orario mentre questo in senso anti-orario. Questo per fare in modo che le eliche non volino via causa l'alta velocità di rotazione. Non ci rimane altro che montare i nostri motori e procedere per un test di volo. ... Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Come potete vedere i motori hanno una buona spinta e i trick risultano abbastanza precisi. In conclusione possiamo dire che questi motori Reset Star 2205 da 2300KV sono l'ideale per chi si avvicina al mondo dell'FPV e vuole assemblare un drone economico ma performante. Grazie per aver visto il video non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Grazie. 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 Grazie.